E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie abbonati al canale. Buona visione! Di polo in polo, di vibrazione in vibrazione. La vera trasmutazione ermetica è un'arte mentale. Gli ermetici un tempo erano alchimisti, psicologi, astrologi. Come dall'astrologia è venuta fuori l'attuale astronomia, dall'alchimia deriva la chimica e dall'antica psicologia mistica la psicologia moderna. Questo non ti deve far pensare che gli antichi non fossero a conoscenza di quel che le scuole moderne ritengono loro esclusiva conquista. Altrimenti saresti in errore. Osservando le incisioni fatte su antiche pietre egiziane, infatti, puoi notare come i nostri avi avessero già molte cognizioni astronomiche. Lo testimonia, tra le altre cose, il sistema di costruzione delle piramidi. Essi conoscevano la chimica, come ci risulta anche da antiche scritture. E gran parte delle loro teorie di fisica ha avuto conferma dalla scienza moderna, come pure gli studi sulla costituzione della materia. Gli egizi avevano una vasta esperienza nelle scienze psicologiche, specie in alcuni rami, oggi ignorati, noti sotto il nome di scienza psichica, che lascia scettici gli psicologi contemporanei. Sta di fatto che gli antichi avevano nozioni di astronomia trascendentale o astrologia, di chimica trascendentale o alchimia, di psicologia trascendentale o psicologia mistica. Oltre alla conoscenza esteriore che posseggono i moderni scienziati, avevano anche quella interiore. Tra i tanti segreti della loro scienza c'era quello a noi noto come trasmutazione mentale. Questo termine, un tempo, era usato per indicare l'antica arte della trasformazione dei metalli poveri in oro. Letteralmente, trasmutare significa trasformare una sostanza o una forma in un'altra. Quindi, per trasmutazione mentale, si intende l'arte di cambiare emozioni, forme e condizioni mentali in altre. Potremmo anche definirla una forma di psicologia mistica pratica. Sebbene questa trasformazione sul piano mentale sia importante per i suoi effetti, non è che l'inizio. Vediamo il perché. Conosciamo già il primo dei nostri sette principi, quello del mentalismo, secondo cui tutto è mente. Se questo principio è vero, dovremmo poterne verificare gli effetti. Quindi la trasmutazione mentale dovrebbe poter cambiare le condizioni dell'universo in funzione della materia, della forza e della mente. È certamente questo il motivo per cui la trasmutazione mentale fu considerata magia dagli antichi storici, che tra l'altro hanno raramente accennato alle sue proprietà pratiche. Per concludere, se tutto è mentale, quest'arte deve rendere il maestro in grado di controllare sia le condizioni materiali che quelle mentali. Purtroppo solo alcuni alchimisti mentali avanzati hanno la capacità di dominare situazioni fisiche di grande portata, come il controllo degli elementi della natura o altri grandi fenomeni fisici. L'esistenza di tali uomini però non può essere negata dagli occultisti di tutte le scuole. I migliori insegnanti assicurano i loro studenti dell'esistenza di questi maestri. Essi non sfoggiano i loro poteri ma preferiscono l'isolamento. Menzioniamo la loro esistenza solo per richiamare all'attenzione il fatto che i loro poteri sono interamente mentali ed operano sulle linee della più alta trasmutazione mentale sotto il principio del mentalismo. Chi si dedica alla trasmutazione mentale opera in essa, trasmutando condizioni e situazioni mentali in altre, secondo formule più o meno esatte. Per cui i tanti trattamenti, negazioni o affermazioni di alcune scuole di scienza mentale, si riducono a formule imperfette della scienza ermetica. La maggioranza dei moderni praticanti è piuttosto ignorante rispetto agli antichi maestri ermetici, non avendo la conoscenza base della dottrina. Per chi conosce questi metodi è possibile cambiare non solo il proprio stato mentale ma anche quello degli altri. Questo normalmente avviene a livello subconscio ma a volte anche conscio. Oggi molti studiosi sanno ormai che con un desiderio intenso e molta concentrazione si può trasformare qualsiasi condizione materiale dipendente da altre menti. Non riteniamo opportuno soffermarci oltre, volendo solo mostrare i principi ermetici che sono la base di queste applicazioni pratiche, buone o cattive che siano. Infatti, grazie alla polarità, è possibile usarle in opposte direzioni. Procediamo ora a prendere in considerazione il primo dei sette principi ermetici, quello del mentalismo in cui si spiega la verità che tutto è mente, l'universo è mentale. Confidiamo nella tua più viva attenzione in quanto questo è il principio fondamentale di tutta la scienza ermetica.